della conferenza dei presidenti di regione e quindi rappresenta la regione Puglia ma le altre 11 regioni che hanno inviato colonne mobili e parlo di quella della Basilicata, della Campania, della Calabria, dell'Emilia Romagna, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, della regione Puglia, del Piemonte, dell'Umbria, della Valle d'Aosta. Io che giro costantemente in quella decina di comuni più intensamente colpiti in ognuno dei punti trovo che vi è una di queste colonne mobili. Si tratta di 2.000 operatori, volontari sì, ma si tratta del volontariato organizzato perché ognuno di noi, anche la nostra colonna mobile, quel volontariato lo specializziamo insieme ai nostri funzionari con continui corsi di addestramento, con continua agibilità e abilità nell'uso di macchinari. Stiamo passando ora nella fase dell'intervento minuto, dello sgombero di quello che è l'acqua e il fango che c'è nelle cantine, nei seminterrati, nei laboratori, negli stabilimenti e conseguentemente abbiamo bisogno di quantità di personale che aiuta ma anche di qualità nella capacità di fare questi interventi. Quindi questo aiuto che viene dalle colonne mobili delle regioni è un capitolo molto importante di quello che sarà il passaggio dall'emergenza alla ricostruzione. I rifiuti sono il tema centrale in questo momento. Noi li abbiamo organizzati attraverso una ordinanza e un'altra che ne faremo. In quella che abbiamo impostato centriamo molto su quello che ci dà la possibilità di miei poteri dal decreto, sullo stoccaggio. Ovvero ci sono le aree ecologiche da cui poi va a tingere alia per portarle alle centrali di smaltimento. Bene, ma occorrono aree di stoccaggio, ovvero aree coperte o da quello che è una normale pavimentazione o da asfalto, perché non vadino poi a infiltrarsi con il terreno, in cui noi invitiamo a portare i rifiuti. I sindaci le stanno individuando comune per comune, perché queste aree di stoccaggio siano quelle che per un mese o due trattengono i rifiuti in modo che progressivamente, dopo il primo impatto, si possa smaltire negli impianti della Toscana e fuori della Toscana, che grazie a questa solidarietà dei governatori delle regioni, noi abbiamo la possibilità poi di poter smaltire. È evidente che quello che colpisce tutti è che la logica del prendere ciò che è andato alluvionato, alla famiglia o all'impresa, e metterlo all'angolo della strada, a un certo punto sta creando grandi problemi, anche perché le strade sono quelle. Se metà dello spazio lo occupi con i rifiuti, poi non riesci a vivere quella viabilità e quella circolazione che è invece necessaria. Per questo abbiamo bisogno non solo di Alia, ma anche di tutto un sistema di contributi a portare i rifiuti nelle aree di stoccaggio che ci possono dare, e privati, che abbiamo sensibilizzato, e altre aziende che possono arrivare anche da fuori regione. Penso per la Toscana la presenza di aziende sui rifiuti, come era, dalla Emilia Romagna, o come IREN, che è un'azienda che nasce e che opera nello smaltimento dei rifiuti nel sud della Toscana, ma che ha il suo cervello in Piemonte, che tutti conosciamo. Tutti questi soggetti devono però essere contrattualizzati, e questi io nell'ordinanza l'ho messo perché nella legge ce lo indica chiaramente, con Alia, cioè devono essere contrattualizzati, io non posso attivare accanto alla nostra azienda dei rifiuti il privato direttamente, perché dovrei poi seguire delle procedure che anche le ordinanze non derogano, e sono procedure di evidenza pubblica che ci portano via del tempo, mentre invece possono avere il loro contratto con l'azienda specifica che è appunto Alia. Grazie.